Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo video su Supermarket Simulator Come sempre ragazzi se questi video vi piacciono mi raccomando vi invito a lasciare un bel polliciazzo in su E l'idea è di fare più episodi su questo simulator ragazzi Per cui se il video dovesse piacervi e dovesse piacervi l'idea di vederne altri mi raccomando lasciate appunto un bel like Se riusciamo ad arrivare a superare 50 like ragazzi ci sarà un secondo episodio E secondo me i video su questo simulator possono essere alquanto interessanti ragazzi Allora di che si tratta? Il titolo del gioco di per sé penso che più chiaro di così non possa essere ragazzi Si tratta appunto di un simulatore dell'avere un supermercato Che poi effettivamente all'inizio si parte semplicemente con un piccolo negozio Ma il bello è che appunto ragazzi bisogna dare il via alla propria attività E poi però essere bravi a mandarla avanti pagando i conti Comprando i prodotti allestendo appunto il proprio negozietto E facendo sì che i clienti tornino e spendano e spendano ragazzi Questo simulator è in early access quindi è ancora in accesso anticipato Però gli sviluppatori hanno voluto che la gente cominciasse già ad usarlo Per vedere che effettivamente comunque il gioco è veramente molto carino Ragazzi è un simulatore principalmente vuole farti passare magari una mezz'ora in tranquillità Tra l'altro qui hanno messo una piccola finestrella dove viene specificato cosa arriverà nel prossimo periodo Quindi quali saranno le novità presenti nel simulatore perché appunto è ancora un pochettino grezzo Diciamo così essendo in accesso anticipato Ma poco importa perché può essere veramente molto molto carino ragazzi E fermi fermila fermila perché già so Già so che sta per arrivare nei commenti quello che scriverà Ma giocherina avevi detto che avresti continuato a portare God of War Ragnarok E invece poi mi porti il supermercato dei miei sti Lo so ragazzi lo so Però come vi avevo detto ragazzi l'ultima volta nel vlog che avevo caricato Per God of War eccetera eccetera ho bisogno di un pochettino più di tempo ragazzi Perché comunque si tratta di giochi un pochettino più impegnativi e impegnati Per cui non ve la prendete a male Io appena ragazzi me la sentirò sarò pronta diciamo così tra molte virgolette Riprenderò sicuramente la serie su God of War Ragnarok Però non vi do una scadenza nel senso non so se sarà fra una settimana Due settimane insomma ragazzi Abbiate un pochettino di pazienza nel frattempo magari appunto ci vediamo Con giochi un pochettino più carucci e leggeri che possono essere anche divertenti Facciamoci anche magari un paio dei risate no Questo giochetto può essere la scelta giusta secondo me Questo simulator ragazzi metterà alla prova tutte le mie incredibili capacità imprenditoriali Che sinceramente non so se ho però vabbè Andiamo a iniziare appunto una nuova partita Cioè sei sicuro Ma the old save cosa? Cosa dice the old save? È la prima volta che apro il gioco ragazzi Non ho mai avviato una partita in vita mia Dice questo guarda che se inizia una nuova partita Poi cancelli tutti i tuoi progressi Ma che progressi? Sì speriamo in bene ragazzi Vediamo un po' cosa succede Benvenuto su Supermarket Simulator Inizierei con un piccolo negozio che diventerà un fantastico supermercato Inizia acquistando la merce da vendere e posizionandola sugli scaffali Non dimenticare di fissare i prezzi con un profitto per evitare la banca rotta Buon divertimento e grazie Attualmente il nostro negozietto è un pochettino piccolino Ragazzi si parte sempre dal basso Dal basso Per arrivare poi in cima all'Olimpo dei supermercati Attualmente quello che dobbiamo fare ragazzi è ordinare la merce Perché giustamente Che cosa viene a comprare la gente nel nostro negozio? L'aria Anche no Ovviamente ragazzi più si andrà avanti Più si avranno a disposizione nuovi prodotti Però ci vuole tempo Ci vuole tempo e soprattutto Ci vuole il cash Due milioni di euro mi devi dare Cash Non ce l'abbiamo il cash attualmente Ci abbiamo la bellezza di 50 pulciosissimi dollari ragazzi Gli unici prodotti che abbiamo a disposizione sono cereali, pane, farina, zucchero, pasta e olio 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 di semi Che buono Allora io direi ragazzi di concentrarci principalmente adesso perlomeno su pane, farina, pasta e zucchero Perché queste costano un pochettino di più e magari aspettiamo un attimo di fare un pochettino di cash per poterli comprare Ok Qua abbiamo a disposizione pure l'arredamento Ovviamente si potranno comprare più avanti Pitture Quindi si potrà personalizzare anche il negozio Ma che carino Lo faremo carinissimo Questo è il carrello Un totale di 40-30 dollari 92 centesimi Restiamo più poveri dalla merda ragazzi Ma io direi di fare il nostro acquisto Quindi prendi le scatole appena arrivate Le scatole appena arrivate Già su arrivate Ma che è? Oh mio dio Una cosa incredibile Allora Quindi possiamo prendere le nostre scatole Portarle Aprirle Uh guardate qua quanto succhero Posiziono i prodotti sugli scaffali Sì ma devo essere sincera Cioè questi due scaffali buttati così Io non ci entrerei mai in un negozio del genere Ma vabbè Speriamo che gli altri clienti siano un pochettino più polli Per cui posizionare Come faccio a scegliere? Ah ecco Basta indirizzare giustamente sullo scaffale Per cui allora Qua ci mettiamo lo zucchero E la scatola si può anche tirare Ovviamente la butteremo Quindi getta la scatola Vota nel bio e la spazzatura è esterno Giustamente Perché noi siamo persone ordinate Basta ragazzi Direi Mamma mia che tristezza Sti scaffali però No non volevo metterli là E mettiamoli qua Ok Abbastanza triste Devo dire Abbastanza Realmente molto triste Ma noi non ci facciamo abbattere Ok Ci abbiamo tre scaffali Con 50 posti Per mettere roba E Siamo poveri No lo volevo mettere Qua il pane E qua sopra Ecco fatto Ecco Continua a metterlo Mannaggia la miseria Qua Ok Facciamo due Bei scaffali pieni ragazzi Di pane Pieni Oddio Un e mezzo Dai un e mezzo Fisse il prezzo dei tuoi prodotti Quindi non ci dobbiamo dimenticare Di mettere Il prezzo Per cui Prezzo di mercato 483 483 Nascatola di zucchero Allora quello che so ragazzi Solitamente Se si ha un'attività Se si ha un qualsiasi cosa Bisogna sempre Moltiplicare Costo per 3 Perché comunque devi considerare Il costo del prodotto Poi Tutto il resto ragazzi Il mantenimento Del negozio Le spese E ovviamente Anche il profitto E il cash Che ci deve entrare Per cui 1.15 Per 3 Fa 3 E 45 Io direi Per ora Di fare 3 25 Dai 3 25 Perché vogliamo avere Dei prezzi Competitivi Assolutamente Per la pasta Quindi 2.97 Il prezzo Per 3 Ragazzi Ma siccome noi Stiamo a prezzi Super fantastici Per incredibili Facciamo 2.90 Dopodiché Per la farina 2.37 Pure qua Prezzi competitive Ragazzi 2.30 Cioè la gente Non troverà Da nessun'altra parte I prezzi Che stanno qua Va bene Il pane Ugale a prima 0.99 Sono 2.97 Facciamo 2.90 Per cui Meglio di questo Ragazzi Si muore Per cui Per aprire il negozio Basta girare l'insegna Ragazzi E girarla su Open Oddio Oddio Che entusiasmo Oddio La mia prima cliente Salve signora Buongiorno Sono la pasta Ah che bello Salve signora Io veramente La ringrazio Per aver reso Così bella La mia giornata Neanche due minuti A partire il negozio Lei è già entrata È meraviglioso Assolutamente Prendi i soldi Da cliente Quindi 2.90 Raccogli il giusto importo Del resto Cliccando sui soldi E registratori Casse Ok Porca putt Cioè vedo A 2.90 Ma ha dato 100 dollari Ma che cate Stanno messa così bene Economicamente Poteva prendere un po' Più da roba Scusi Da 7 E 10 È giusto Sì Premi spazio Per approvare il pagamento Salve signora Oh 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 Mio Dio Non mi ha sventato Un'apertura così incredibile Salve a tutti Buongiorno Ah C'è anche il banco Mass ragazzi Ma perché noi stiamo avanti Cioè 4.60 Grazie signora Salve Buongiorno Buongiorno a tutti Ma che ha fatto questo Ha piato un farolastino in fronte Salve Buongiorno Ok Le devo 0.75 Ecco a lei signora Salve anche a lei Ma che bello Così bello Vedere tutta questa gente 0.75 Anche a lei Salve Ha preso due prodotti Addirittura Ma che bello Che bello Oggi 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 È veramente una bella giornata Ragazzi Ok Anche a lei due prodotti Pane Ragazzi Zucchia Vanno via Come se non ci fosse un domani Quindi 6.15 Vi sono piaciuti I miei prezzi Competitivi A pezzi Nemmeno Vabbè Uuu Addirittura tre Ma grazie signora Lei è il miglior cliente Del giorno Faccio un bel sorriso Hello darkness My old friend Va bene Ok mi pagano contanti Le devo 0.95 Riprendi i soldi Infatti ho sbagliato Ok Riprendi i soldi Ecco Vabbè Vabbè Niente regà Per 5 centesimi Non morirò di certo Servi i clienti Quindi devono avvenire 25 persone Io non so se basterà tutta la mia roba per 25 persone Salve signore Allora 4 e 20 Ecco a lei Grazie Grazie E buongiorno anche a lei Ma come la va Come la va Wow Oh quanto è apprezzato questo Sì sì Ma quanta roba Salve Grazie 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 veramente Tutto molto commovente Di 9.40 Arrivederci Arrivedorci Arrivedorci Wow Non basterà tutta la roba ragazzi Mi posso indebitaggiare adesso Non ho capito Ma anche no Non ho più tantissima roba Eh però Salve signori Buongiorno E benvenuti Al supermarket Che fantasia Entri pure signore Entri pure signore No Inaugurazione incredibile ragazzi Oggi Cibo gratis Ah vedi Fulserà sempre Cibo gratis Cibo gratis Signori No No Va bene Va bene Va bene Come ne ho detto Allora Buongiorno Buongiorno Resto insufficiente Eh che cazzo Ma c'erano tutti i bancoroteri a 100 dollari Ma mi pare ragazzi Secondo voi Posso avere Il resto per tutti quanti Eh che cavolo Salve salve Oh Buongiorno anche a lei Grazie Mi paga con la carta Per fortuna Perché Comincio a dare sta manetta Qua se me sganciano tutti i bancoroteri a 100 dollari Oh Ma ha dato il Ciao La cosa giusta Grazie signora Grazie Grazie davvero Ecco il momento Quando ti danno i soldi giusti ragazzi E quanto pagano con la carta Ancora Buongiorno a tutti Se riesco a uscire magari Buongiorno a tutti Oggi grandissima inaugurazione Del mio incredibile Meraviglioso Fantastico Supermarket Ragazzi Dove trovate prodotti di marca Unici e irripetibili Tipo Zucchero Sussu E pane in cassetta Altri due prodotti Che mi sono finiti Tra l'altro Mi sono finiti ragazzi Questo potrebbe essere un bel Le d'altra che me paga con 100 dollari Ma che ve siete equalizzati Mannaggia santa Mamma mia Ok Salve salve Solo zucchero Solo zucchero Va benissimo signora Grazie mille anche a lei Solo pasta Va benissimo Due e dieci Ecco qua Lei Grazie Grazie La pasta migliore del quartiere Anzi dell'intera città Deee Dieci Ecco a lei Regà M'hanno suotato il negozio Oddio santo Devo servire ancora otto persone Mi sa che mi conviene Ordinare Di nuovo qualcosina Insomma Andrò già in rosso Già lo so Pane Oddio vabbè Posso farlo un piccolo investimento I cereali I cereali La gente ama i cereali Vai Acquisto Super incredibile Servizio Super mega Iper State buoni State buoni Che arrivo Arrivo subito Con nuovi incredibili Prodotti Guardate qua Ragazzi Allora Fermi un attimo Via La scatola Costo medio 3 Quindi Ragazzi Per 3 Minchia sarebbe un po' troppo La facciamo 6 e 50 Perfetto Ammazza Quanto state a comprare Fermi 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 Che devo ancora Restoccare un attimino Gli scaffali Vedete Non tazzardare a comprare Via anche tu la scatola Perfetto Con i prodotti già acquistati Ragazzi Rimette il prezzo Che già avevamo messo E farina Per tutti Arrivo Un attimino Abbiate un attimino 2 e 30 Perfetto Ammazza Si è creata la fila Oh ma è buio Ah posso accendere la luce Ma giusto a monte 2 e 90 Grazie Grazie mille ragazzi Spero di rivedervi presto E 2 e 90 Mi ha dato il prezzo giusto L'adoro Oh quanto zucchero Che cosa ci deve fare Tutto questo zucchero Mi ha dato il prezzo giusto Anche a lei Un bacione Incredibile Mi paga con la carta Adoro Adoro Solo pane Solo pane Solo pane Nient'altro Va bene 10 centesimi di resto Ecco a lei Grazie signora Grazie Sono stati veramente gentilissimi È arrivato il momento Di buttare le scatole Buongiorno Sì buongiorno Sono le 8 ore Già sono le 8 ore di sera Mizzica Come ci si diverte ragazzi Perché il tempo sta volando Quindi mi sto divertendo Dammo Ah chi che è Uh La mia prima scatola di cereali Salve signore Grazie E che caspiterina Un altro con 100 dollari Ragazzi Ma venite apposta da me A cambiarli Dite la verità Mannaggia la miseria Ecco qua lei Salve Sono un pacco di farina Spilorcia Eh grazie signore Grazie Oh Lui è il cliente del giorno Vedi Alla prima non è voluto entrare Adesso è entrato Ha trovato i prodotti della vita Gliel'avevo detto signore Ecco qua 17 e 60 Ma che meraviglia Una scorta di farina E 9 e 20 Anche a lei Grazie Grazie Oh Perfetto ragazzi Allora il giorno dell'inaugurazione A quanto pare è finito Perché il nostro obiettivo è cambiato Abbiamo servito tutti i clienti di oggi E acquista una licenza prodotto Usando il computer Una licenza prodotto Che vuol dire? Ah ecco Ma non posso Non posso comprare Non posso comprarla ragazzi Ufff C'è per la miseria Quindi praticamente Licenza e prodotto Servono Vedete Per poter acquistare Appunto Altri prodotti Dai Licenza prodotto Cosa volevi che facesse Ti mandasse sulla luna Cioè Anche no Mi sa che mi toccherà Fare un'altra giornata di lavoro L'incredibile lavoro Direi Ma ci sono le bollette Da pagare Vedete ragazzi C'è anche la possibilità Appunto Di espandere La superficie Del proprio negozio Fino a quando diventerà Un impero Dopodiché Assunzione Addirittura Ragazzi Cioè ma è una cosa Incredibile questa Ah Si può sbloccare Il magazzino Meraviglioso Meraviglioso Fatto sta che adesso Sono ancora povera Come la merda E Oh mio dio Addirittura Addirittura Possiamo chiedere Il prestito Alla banca Però poi Vedete ragazzi Ovviamente Ci sarà Un pagamento Giornaliero Da fare Però sinceramente Non mi voglio Indebitare Già da adesso Ragazzi Siamo veramente Fin troppo poveri Quindi direi Di finire il giorno Anzi scusate Prima butto L'ultima scatola Perché sono una persona Estremamente Ordinata E Quindi Voilà Enter Non spazio Perfetto Vediamo un po' Clienti soddisfatti Perché prodotti Non trovi Ah Clienti totale 26 Però clienti soddisfatti 24 Perché due non hanno trovato I prodotti che volevano Cioè ragazzi Ma avete visto la resa Che c'è stata oggi E che cavolo Allora Quindi ha avuto 100 dollari Di costi di fornitura 159 Di entrata Ragazzi Profitto totale 59 dollari Non male Non male Allora Riceverai Verete ragazzi Bollette giornaliere A partire da oggi Perché le bollette Non ti mollano mai In nessun momento Della tua vita Ogni minuto Ogni secondo Le bollette Ti perseguiteranno Per sempre Assicurati di pagare Le fatture Prima della loro Data di scadenza O verranno pagate Automaticamente C'è del tipo De Cioè pensi Non te ne accorgi E Ti ciucciano Via il cash Accidenti Più dispositivi Elettronici Ci sono Più alte Saranno le fatture Perché ovviamente Si avrà anche la possibilità Di comprare Dei frigoriferi Però attualmente Sono talmente povera E pulciosa E pidocchiosa Che non li posso comprare I frigoriferi Nel prossimo obiettivo Ragazzi Comunque sarà Acquistare una licenza Però Se non riesco A fare un pochettino Più di D&D La licenza Non la compro Ovviamente ragazzi I prodotti Che costano di più Sono quelli Che rendono di più Per cui bisognerebbe Fare un piccolissimo Investimento Ma che cosa Mi è finito Pasta E zucchero E farina Ragazzi Pasta Zucchero E farina Pasta Farina Ecco qua E zucchero Che è stato venduto Come se non ci fosse Un domani Perché Su su Ragazzi E su su Le grandi marchie E direi di fare Un piccolino Investimento Un piccolino Investimento Con l'olio Si è un'attività Bisogna investire Non bisogna farsi Troppi problemi Per cui Andiamo a prendere I nostri prodotti Consegnati Alla velocità Della luce Per cui Ecco qua l'olio Allora qua ci avevo messo Il pane Però vabbè Adesso ci metto No Qua sopra I rumori Sono bellissimi Ragazzi Qua sopra ci metto L'olio L'olio Ok Andiamo avanti Succhero Qua sopra Al primo posto Ovviamente ragazzi Lo zucchero Su su E Anche qua sotto A sto punto Lo zucchero Su su Poi cambierò Il posto Alla pasta Mi pare ovvio Ecco qua la pasta Ragazzi La mettiamo Qua di fianco Alla farina Potrebbe avere Un po' di senso Un po' di Non credo Ma vabbè Sono dettagli Non ci interessano Questi dettagli E restocchiamo La farina Ragazzi Per uno Non ci entra Lo metto qua Guarda Lì da solo Fa un po' pena Per cui le bollette Le devo pagare io Perché sennò Saranno scalate Automaticamente Fatemi vedere Ok forse a fine giornata Arrivano le bollette Quindi Dire Ah aspettate Il prezzo Il prezzo Non facciamo sciocchezze Perché i prezzi Sono importanti Nell'olio Lo possiamo vendere Alla bellezza Di 4,50 Ragazzi 4,50 Va bene così Quindi Gli altri prezzi Dovrebbero essere a posto I cereali A 6,50 La scatola Ragazzi Gli hanno placati d'oro I cereali Direi di non perdere tempo Non vedo l'ora Di venire Arrivare la gente E apriamo il negozio 3-2 Fa 1 Go Ok Vedere il negozio Da qui ragazzi È Non so Non so che di deprimere Il primo cliente del giorno Buongiorno signore Ha visto la magnificenza Dei miei prodotti Ok 1 2 3 Mi piace questo signore 10 E 60 Eccole Grazie per aver fatto Acquisti da me È sempre un piacere Servirvi Teniamo sott'occhio Lo zucchero ragazzi Quasi 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 Lo zucchero va Allora dovrei tenere Un attimino d'occhio ragazzi La vendita dei vari prodotti Nel senso vedere Quale viene venduto di più Quale viene venduto di meno Perché ovviamente Magari questo potrebbe stare A significare Dover poter alzare Un pochettino Magari qualche prezzo E doverne diminuire Degli altri Quindi osservare i clienti Mentre fanno acquisti È assolutamente importante Ha preso due bottiglie d'olio La bellezza di due bottiglie d'olio L'olio di semi Grazie signore 8 E 10 A lei Salve Oh ma buongiorno Anche a lei Lo zucchero Su Su ragazzi Si vende Come se non ci fosse Un domani Grazie mille signore È stato Giandelissimo Buona giornata Uno e arriva un altro Settro cliente Uh due clienti Ma siete già mello Perfetto 940 Cash Cash Anche se non è cash Va bene lo stesso Soldi 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 Tanti soldi E l'obiettivo È fare i soldi Ragazzi Lo zucchero Devo dire Si vende Si vende I cereali Un po' meno Perché effettivamente Sono un po' carucci Se dobbiamo dirla tutta Che dite Abbassiamo Facciamo un piccolissimo sconto Incredibile Sconto del giorno Ragazzi Sui cereali Con l'orsetto Sono cereali E sono a forma di orsetto Eeeh Quanta pasta Ma buongiorno Anche a lei Signora salve Olio e pasta Pasta con olio Di sì La bontà della maison Grazie Buona giornata Dimmi che ha comprato i cereali No Niente da fare I cereali Non li vuole nessuno Perché Sono così buoni Sono a forma di orsetto Sono cioccolato Cosa potreste mai volere di più Insomma La pasta sta per finire ragazzi Ok La pasta La pasta Va Restocchiamo Prima che arrivi qualcun altro Ah posso anche correre Salve signora Buongiorno Pansati Si chiama Pansati La pasta È bellissimo È bellissimo Salve Buongiorno Prego Mi di Mi di Un baro Di soldi giusti In questo negozio C'è questa politica Ragazzi Quando mi date I soldi giusti Un baciozzo Di apprezzamento Salve signora E grazie Olio e zucchero Zucchero e olio Quale pozione incredibile Con questi ingredienti Salve Buona giornata Entrata solo per prendere Un po' di pane Spilorcia Anche a lei Buona giornata Una scatola di cereali Poteva prenderne due Sono in offerta Va bene Va bene Ci tornerà Perfetto Gli devo 75 centesimi Di resto Oh la madonna Ragazzi Lo sconto di Ben 25 centesimi A tira Gente Come se non ci fosse Un domani Grazie Buon uomo Grazie Ok Le devo dare 37 e 50 Arrivedorci Arrivedorci I cereali I cereali Sono in offerta Signori I cereali No niente I cereali Va bene Come ne ho detto Ok 2,90 Spilorcia Solo il pane Quanto li odio Quando entrano a comprare Solo il pane Potreste prendere Anche qualche altra cosa Come lei Signora Uuu Ha visto i cereali In offerta Ragazzi La bellezza Di due scatole Ma lo funziona Sta cosa Pensavo fosse Una cosa Un po' buttata All'ina Al fatto abbassa Un po' il prezzo Chissà Magari E invece Pare che funzioni Ragazzi 12 e 50 A lei Salve Buona giornata Grazie Altri cereali Non ci posso credere E la madonna Che cazzo È tutto sto pane Fa la scorta Signora Fa bene Soprattutto se la fa da me Cash 100 dollari Cash La con c'è Tu madre 85 e 5 centesimi Arrivederci Anche lei Zucchero e pane Grazie signora Sì a 15 Mi è finito il pane Ragazzi Ed è ancora un po' presto Quindi direi di comprare Pane E cereali Sì ecco Sì ecco un attimo Poi ve lamentate Non trovate i prodotti Sto facendo rifornimento Insomma i cereali Ragazzi Alla fine Volente o nolente Sono andati a ruba Non vorrei dire Non vorrei dire Olio e zucchero Olio e zucchero Quanto le devo 4 e 50 Ecco qua Buona giornata Salve Olio e zucchero Un altro Ebbene Per me va benissimo Cioè non mi interessa Sapere cosa ci fate Con questi prodotti L'importante è che paghiate Cash Aspetti che restocco Un attimo i cereali Ecco qua Oh non c'entra più Che sfiga di merda Beh lo metto qua eh Un attimo signore Arrivo subito Un attimo Mi lasci restoccare il pane Perché È il caso È il caso assolutamente Non là sopra Qua sopra Eccomi qua signore Buonasera Buonasera Solo un pacchetto di zucchero Si vergogni Sì A posto Grazie Non torni mai più Anzi si torni Però compri qualcos'altro Insomma Ok Già un po' meglio Basta Pansati Nella migliore Sul mercato Signora 7 e 50 E farina Grazie Grazie 4 e 60 E buona giornata Ok ragazzi Allora Sono le 9 di sera Quindi suppongo Che siamo A orario di chiusura Infatti Premi enter Per fine del giorno Acquisto dell'ultimo minuto Signora Ha visto che ora è La prossima volta Non si presenti alle 9 Quando sto per chiudere Abbassare la Serranda Capisce? Perché io ho i miei conti Da fare C'ho le mie cose Da comprare Le mie bollette Da pagare Ha capito? Scapito Ok Va bene Per stavolta Gli la faccio passare Ok Acquisto dell'ultimo minuto Grazie Buona giornata Allora Vediamo un attimino adesso Ragazzi Sì Tutte le fatture Sono state pagate Va bene Ok D'accordo Non posso ancora comprare Una licenza ragazzi Mi sa che mi toccherà Fare un bel prestito E indebitiamoci con la banca Yuhuu Te costringono ragazzi Te costringono Perché più compri prodotti Eh però Si profitto Eeeh Mi sa che serve Ah Si può anche allungare Che figata ragazzi Questa Si può anche allungare Vedete O diminuire la durata Del prestito Per far sì che la rata Sia o più bassa Più alta Ovviamente Più giorni Lo tieni Più è alto il rimborso Però Dai Direi che Sì 15 giorni Oddio 54 dollari La vedo brutta ragazzi No preferisco avercelo un pochettino Più lungo Avere una rata Giornaliera di 37 e 50 Quindi questa è una cosa Che uno dovrà tenere in conto Però Eeeh Mi devi dare 750 dollari Cash Richiedi prestito Oh mio dio Guardate il mio conto Com'è salito ragazzi Da domani Siamo indebitati Fino al collo Finiamo il giorno Vediamo un pochettino 23 clienti Quindi siamo rimasti Un attimino Sulla media giusta 109 costi di fornitura 79 Di profitto Almeno Non siamo andati in rosso Ragazzi Almeno Ok Quindi allora Questa è una licenza Prodotto E io direi Che è il momento Assolutamente Di comprarne una Ragazzi Non vedo l'ora Di avere nuovi prodotti A disposizione Nel mio negozio E allora Ah ecco qua La prima fattura Perché Perché Giustamente il locale Non è nostro Poveri come la merda Come siamo Come poteva essere nostro Devo pagarci anche L'affitto 3 giorni rimasti Direi di No rega Paghiamo subito Paghiamo subito Ci togliamo il pensiero E licenze Nivello negozio 3 ce l'abbiamo I dindi Ce li abbiamo Ci dà la possibilità Ragazzi Di Di avere a disposizione Latte Tè Acqua Formaggio Caffè E uova Che comunque Sono diversi prodotti Che la gente potrebbe Sicuramente Sicuramente Voler acquistare Quindi direi Assolutamente Di sì Noi prodotti Disponibili Ma che vallo Stiamo cominciando Piano meno A espandere Il nostro negozio Il problema è Dove la metto Tutta sta roba A parte che il formaggio Suppongo abbia bisogno Di un frigorifero Allora Posso spostare La cassa Ok sì Bisogna un attimino Ragazzi Pensare in grande Pensare in grande Capito Quindi dobbiamo Cambiare qualcosina Qua nel negozio Ragazzi Devo comprare un frigo Visualizza Le uova Il latte L'acqua Vanno nel frigo Quanto mi costa Un frigo Frigo doppio 375 dollari Bisogna decidere Se fare questa Follia ragazzi Perché forse per me Comprerei quello A due porte Ovviamente Per avere la possibilità Di metterci più prodotti Quindi più prodotti Quindi più clienti Quindi più clienti Quindi più cash È arrivato il momento Di comprare un frigo doppio Colore Ah aspetta Posso scegliere il colore Faccio rosa No quel cazzo Facciamo nero Ragazzi Un frigo doppio 400 Scusami Non erano 375 375 Quello che era Un attimo fa Che è successo Nero costa di più A pezzi di sterco Che non siete altri E niente Me lo terrò Bianco Ospedale Che dobbiamo fare ragazzi Come scende il conto Ero vicino a mille Poco fa Ammazza sempre Ehi È mio Bello il nostro frigo Ragazzi Dai però entusiasmante Questa cosa No Vediamo un attimo Come sistemare il tutto Non so se sfruttare Già questa parete O se mettere il frigo Qua in mezzo Che sta parete Vuota Fa un po' pena Ragazzi Cioè diciamocela tutta Dai Allora facciamo una cosa Ok Si può ruotare Ovviamente Allora mettiamo Uno degli scaffali Qui ragazzi Riprendiamo il frigo Mi sa che questa cosa Farà abbastanza cagare Il frigo lo mettiamo qua Nell'angolo Guardate che carino Lo scaffale Lo spostiamo giusto Un pochinino Un cincinin di qua Che dite Guardiamo da fuori Com'è 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 Ma che carino Dai ragazzi Già è tutta un'altra cosa Adesso Boni Perché ovviamente Bisogna comprare Anche nuovi prodotti Prodotti da frigo Che cos'è che la gente Può voler comprare di più Ragazzi Il latte Uova Acqua Il caffè costa un botto Ragazzi Il caffè costa un botto Ci possiamo ricavare Un botto Dal caffè Un botto Allora Caffè Assolutamente ragazzi Facciamo questo bell'investimento Formaggio Compro tutto Sti cazzi Te compro tutto Dopodiché ho finito Qualche altra cosa Non lo so Allora intanto Compriamo questa roba ragazzi Cos'è che ho finito Farina e zucchero Che poi la gente Rompe le palle Che non trova le cose Farina e zucchero Anche ragazzi Non mi rubate i prodotti Mi raccomando Che li buttano lì per strada Farina e zucchero Sì sì Ok ragazzi Allora Già quasi finito Praticamente tutti I nostri soldi E mi buttate la merce E così Fate schifo Ah formaggio Perfetto Io direi Di fare un prezzo alla volta Prima che mi dimentichi Di farli Allora Il formaggio Il triplo Ragazzi Sono 5,37 Siccome sono buona Dico Metto 5,20 Io faccio sempre I prezzi Super competitivi Mi raccomando E voi pezzi Di sterco Continuate ad andare A comprare Nelle grandi catene Quando sono i negozietti Che arrancano E faticano ad arrivare A fine mese Ok Farina Come se non ci fosse Un domani Uh il caffè Questa sarà la nostra galina Dai uova d'oro Ragazzi Come non puoi lanciare Sì che posso lanciare qui Non ho capito Non posso prendere i prodotti Singolarmente Cioè devo avere Per forza una scatola in mano Ecco questa Questa è una merdata Però credo che fosse Fra gli aggiornamenti Ragazzi Di poter prendere i prodotti Singolarmente Senza bisogno Di una scatola Quindi Succherò Succherò Eee Per tutti gli appassionati Direi di tenerlo da parte Non metterlo tutto Sullo scaffale Aspetta quindi adesso Posso prendere il cereale I prodotti devono essere uguali Ma va Fangulo Va Uh il latte Il latte Che bello Che bello Lo mettiamo qua Vicino al formaggio Giustamente Oh guardate che bello Ragazzi Da soddisfazione Fare questa cosa Mi piace Mi piace A quanto possiamo vendere Il latte Una merda 2,25 Wow Guarda che sconto No 20 dai Che sconto Gli scontoni Ragazzi Qua l'acqua Perché Perché Per forza in frigo Però questa me la dovete spiegare Perché C'è gente che ama l'acqua A temperatura ambiente Vabbè comunque A prescindere da tutto Ragazzi Mettiamo l'acqua qua sopra Direi di non metterne altra Perché mi piace Che sia solo là sopra E la buttiamo qua Non puoi lanciare qui Certo che posso Come non posso Certo L'acqua costa più del latte Ragazzi 2,85 E gli scontoni Signori E gli scontoni Ecco qua Perfetto Ci manca l'ultimo Prodotto Le uova Ok Ecco qua Guardate che carino Che carino Salve pants Basta Pansati Per tutti i pansoni Le uova 1,99 5,97 Il triplo Ma io vi faccio Lo scontone Ve le vendo A 5,90 Ah ma qua abbiamo Ancora il caffè ragazzi Voglio che si veda Il caffè lo mettiamo qua ragazzi Ecco qua Solo 8 confezioni E niente La che cosa La scatola Corrisponde alla misura Una cazzo di scatola Ce lo puoi mettere Un'altra scatola La scatola dentro Un'altra scatola Eh no Vabbè niente Me ne dà un fastidio Vede sto coso qua da solo Ragazzi che voi Non vi potete credere Quindi allora Un attimino di restoccaggio Ci manca l'olio L'olio sta per finire ragazzi Ma che dite Stavo pensando di fare Un investimento assurdo ragazzi E comprare Quante più cose possibili Però Non vorrei poi restare al verde L'olio Intanto però lo compro Dopodiché Che cos'è che si vendeva parecchio Lo zucchero Il tè nero Non l'ho comprato ragazzi Dai diamo un pochettino più Cioè di varietà Giustamente al nostro negozio Va bene Dai Niente Voglio fare questa follia Voglio fare questa follia Non mi interessa Bisogna investire E rischiare il tutto Per tutto Eccolo Succherò 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 Qua sotto Guarda Ecco qua Guarda com'è bello Altro zucchero Ok Come se non ci fosse un domani Oh Questo va bene La misura giusta Il ripieno è pieno La conce Tu madre Di nuovo Ma ce l'avevo lo zucchero Non fa niente Non fa niente Ecco qua Ecco guarda Perfetto Lancio perfetto E dopodiché ho comprato Il tè Che la gente piace Il tè Giustamente ammazza Quanto tè c'è sta Oh Va bene Uh si può mettere anche sopra Ma che bello Guarda com'è carino Che meraviglia Che meraviglia Che meraviglia Adoro L'olio non l'ho comprato Ah C'è un'altra scatola Qua fuori Non vorremmo lasciarla Qua fuori Olio di semi Ecco qua Oh Guarda com'è bello Il mio negozio Perfetto Allora devo cambiare Il prezzo Al tè però Attenzione 8 e 25 Allora Facciamo una follia Lo mettiamo a 7 e 99 Allora Il nostro negozio È stato rinnovato Però qua c'è un po' Troppa distanza Ho sbaglio Non mi piace Aspettate un attimo Non mi piace Questa cosa Ok Oh Così già un pochettino Più simmetrico Che dite ragazzi E che dite Incominciamo questo terzo giorno Vediamo la follia Andiamo Ah L'obiettivo attuale era Acquista una nuova sezione Usando il tuo computer Per espandere il tuo negozio Forse il prestito Sarebbe stato meglio Usarlo per quello Però Faremo così tanti cash Che non ce ne accorgeremo nemmeno Tre meno due fa uno Go Eh signori signori Rinnovato il negozio Del vostro quartiere Con nuovi incredibili prodotti Signori signori Venite a comprare 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 Vuole comprare Buongiorno signori Non affollatevi Non affollatevi Uh Caffè 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 Buongiorno Salve Vediamo i nostri profitti Che iniziano a crescere Ragazzi Le è piaciuto il caffè Ha visto signore Sono contenta Sono contenta Davvero contenta Allora Tre E settantadue precisi Al centesimo Il caffè ragazzi Il caffè Nella risposta a tutte le mie domande Il caffè Tre zero uno Al centesimo Salve signore Grazie Buona giornata Buona giornata Che meraviglia Sì E' novantanove Aaaaa Succhio Pane Pane Le è piaciuto Le è piaciuto il mio pane Signora 7,95 Ecco qua Buona giornata Cioè c'ho i prodotti freschi Cioè meglio dei prodotti freschi Che vi posso offrire Dai Su Un po' di uova Un po' di zucchero Eccolo là Ok Ha preso il latte Il latte Il latte Eeeee Grazie signore Finalmente Finalmente Oh Mi hanno dato i soldi giusti Mua Buona giornata Buona giornata Il latte Io vi faccio Gli scontoni Lei osa dire Che il mio formaggio Costa troppo Signora La prossima volta Si grattugi il formaggio Dai piedi Oh Guarda qua Che bella spesa Quattro prodotti Che bello Che bello 19,90 Grazie Sono davvero commossa Che 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 ha detto Quest'altro stronzo Che è entrato Ha detto che costa troppo E poi è uscito Infame Un altro che è entrato Ma che cazzo Si sta a lamentare La gente Ma che veramente Costa troppo Io ve lo abbasso Pezzi di sterco Che non siete altri Ha detto che Qualcos'altro Costava troppo Forse le uova Perché Prezzo di mercato E 3,98 Quindi ovviamente Eh bisogna fare Un po' ragazzi Di scontoni Ulteriori scontoni Va bene Forza Venghino Signori Venghino Guardate qua Che sconti Signore Signori Incredibili sconti Il mio tè Non l'ha comprato Nessuno Ancora nessuno Eccolo là Eccolo là Che ha comprato Il mio tè Latte tè Latte tè Tè Latte Ecco qua Buona giornata Sve Hola Madonna Uuuu Un'altra che dice Che il formaggio Costa troppo Grattatevelo via Dei piedi Dio santissimo Questa è la cliente Dell'anno Va bene Del mese Per ora 42 dollari E 76 Sono commosso Ragazzi Una bottiglia d'acqua Dalle stelle Alle stalle Ragazzi Che vergogna 2,80 Però il bacetto Sono marito lo stesso Ma perché continuano a dire Che costa troppo Sto marito formaggio Il tè Compra il tè E poi dice Che il formaggio Costa troppo Ma va là Va là Va là 6,75 Niente Regà Sto cazzo Dei formaggio Mi sa che Gli devo abbassare Il maledettissimo prezzo Ancora 4,50 65 Stai vendendo un prodotto Che dice Mi è uscita una scritta Che non ho letto Che diceva Che diceva Maledizione Non ho letto Ragazzi 16,04 Sì scusa Scusa Un attimo Non riesco a trovare È finito il caffè E la miseria Ragazzi Mi avete finito il caffè Cioè 10,10 Mi è finito il caffè Boni 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 Che il caffè L'ho detto La mia gallina Dalle uova d'oro Ragazzi Lo devo comprare A 55 dollari A conce Tu madre Dio santissimo Quanto cazzo Ancora la costa Sto caffè Boni State boni Che arrivo Che arrivo Che arrivo Che arrivo Che arrivo Eeeh Compra 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 Aguffè Compra Compa Caffè 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 Allora Aspettate che Rimetto Un po' di roba Eh si sta facendo buio Lo so ragazzi Abbiate un attimo De pazienza Cereali E' bene comunque Avere prodotti Direttamente in negozio Ragazzi eh Su su L'ho comprata Pacchi Adesso non se lo sta comprando Più un cazzarola Di nessuno Ecco qua Olio di semi Certo Un dollaro Ecco lei Buona giornata Olio di semi Ma certo Buona giornata 11.80 Buona serata Buona serata Oh vedete Questa Beh che cavolo Allora Non ho idea Da quanto tempo Ragazzi si è stoppata La mia facecam Scusatemi Ma ero troppo presa Dai miei affari ragazzi Guardate qua Che bella spesa Ok 27.20 Sono curiosa di vedere Come chiudiamo Questa giornata ragazzi Cereali acqua 9.05 Sì 90 No no 9.05 Ecco qua Oh Finalmente Qualcuno che ricompra il mio Sì sì 11.95 Ecco qua Buona giornata Che cos'altro è finito Oh l'olio di semi L'acqua Un prodotto senza fissarne il suo prezzo Ma dove A cosa A cosa A cosa non ho fissato il prezzo Oh Shit Olio e uova Alle uova pure l'ho cambiato Cos'è Tana conce tu madre Porca miseria 85.50 A cosa non ho fissato il prezzo Ma stiamo scherzando Certo che l'ho fissato A cosa Che che E sto cazzo di formaggio Ma avete rotto le scatole A tutto ho fissato il prezzo Ragazzi What the fuck C'è qualcosa di strano Perché ho cambiato il prezzo A tutto ragazzi Eppure le uova costano troppo Eh mamma mia Che esagerati però eh A tutto ho cambiato il prezzo Cioè diciamoci la sincera verità Ragazzi Dai Come potete ben vedere No Non ho cambiato il prezzo Al caffè Ma son deficiente Cioè prima ho venduto Tutto quel caffè Non gli ho cambiato il prezzo Non ci ho guadagnato Una minchia Greve 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 Porca pupazza Potevo venderlo a più di 20 dollari E te credo che se so comprati Tutto sto caffè Grazie a sta grandissima cipa Ma va a cagare Maledizione a me A quanto posso essere stupida Stupida Mi sono persa un po' di soldi ragazzi Un sacco di soldi Che imbecille che sono E quindi oggi sarò in rosso Sicuramente Che palle immense Gigantesche Vediamo un po' la gestione Ok fatture per ora Niente ragazzi E finiamo sta giornata E vediamo com'è andata Di merda Ok allora Oddio È la fine È la fine È la fine Meno 600 Allora a parte che sono venuti Meno clienti 8 persone hanno trovato i miei prodotti Troppo costosi Ma come cazzo Vi permettete Dio santissimo Mamma mia Il delirio La devastazione Non è per il mio conto Questo episodio Può finire qua Come sempre Ricordate Amore Vi faccio salutare Dalla piccola Rabin La gioia Nello sguardo Quindi se il video vi è piaciuto ragazzi Vi ricordo di lasciare un bel like E un bel commento qua sotto Se avete dei suggerimenti Se conoscete questo gioco Insomma ragazzi Fatemi sapere qua sotto Qualcosa Mi raccomando Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione E un badocio a tutti ragazzi Da giocherina Ciao